E' anche preghiera in nostre case, lei dice che non c'è niente che può unire famiglie di più come quando si prega insieme e lei dice che c'è una grande responsabilità che i genitori hanno davanti ai suoi figli, perché loro sono quelli che devono mettere radice del fede in cuore dei suoi figli, a questo possono se pregano insieme, se vanno a Messa insieme, perché noi non possiamo parlare a nostri figli sulla importanza della Santa Messa se loro non vedono che per noi Messa è al primo posto, non possiamo parlargli sulla importanza della preghiera se non vedono noi come preghiamo, per questo Madora dice che i genitori hanno una grande responsabilità, perché i bambini fanno solo quello che vedono in casa, allora devono vedere che per mamma e papà Dio è al primo posto, dopo tutto altro, quando i figli crescano, quando vanno via di casa, loro possono provare a vivere contrario come gli abbiamo insegnato a noi, ma con la nostra preghiera, con nostro amore, con nostro esempio, loro torneranno, torneranno perché noi li abbiamo messo radici, per questo è importante cosa portano di casa. Grazie.